cominciamo questa nuova puntata di gong 10 minuti con round two con una nota operativa sapete che tutte le mattine andiamo live dalle 10 alle 12 il podcast viene registrato immediatamente dopo è successo che la puntata di ieri si è andata in onda con un finale suggestivo in cui ci chiedevamo seppure baionetta sarebbe stato presentato con un trailer shadow droppato così dal nulla e marco diceva no ma figurati se nintendo con un titolo come baionetta fa una cosa del genere nel senso io lascio la porta aperta alla foglia di nintendo però dice è un gioco molto atteso è un gioco importante ero convinto l'avrebbero pubblicato nel 2022 se fai questa cosa la celebri un po certo e praticamente l'episodio di gong di ieri è andato in onda letteralmente due ore e mezzo dopo il l'annuncio la presentazione di un trailer di baionetta in cui appunto in tre minuti e 33 che la metà di 666 secondo me non a caso hanno sostanzialmente mostrato di nuovo in azione il gioco di platinum games e confermato la pubblicazione per il 28 ottobre di quest'anno tra l'altro anche con la disponibilità di una ricchissima collector's edition e io rinuncio ufficialmente ancora una volta in più a capire nintendo l'industria e in particolare la parte la parte giapponese diciamo del gaming che è un modo di vedere proprio impossibile da decifrare ormai davvero complesso capire quali siano le strategie pubblicazione invece insomma ben mirata nel periodo di halloween che anche tematicamente no con la strega di umbra ci sta di brutto infatti è quello che rende ancora più assurdo il tutto non è che dice vabbè arriva ad aprile quindi boh fa niente avevi la notizia in sé era comunque importante la data di pubblicazione ma non solo anche il trailer secondo me conteneva contiene una buona buona mole di informazioni se non altro per esempio la presenza di un secondo personaggio giocabile che si chiama vaiola e che utilizza anche un rampino quindi ci possiamo ipotizzare qualche sezione il movimento platforming 3d non lo so qualcosa del genere un trailer bello corposo eppure buttato la buttato la quindi noi adesso ovviamente in questa puntata riprendiamo la notizia ma non ci limitiamo oggi parliamo di half life 3 quindi no 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 riprendiamo la notizia dicevo non ci limitiamo però a raccontarvi quando uscirà vi diciamo anche quello che ne pensiamo perché questo trailer ne parlavamo anche nella puntata live su twitch oggi ci ha lasciato sensazioni contrastanti da una parte la pulizia la fluidità dei 60 fps dall'altra invece un comparto tecnico un po limitato forse dall'hardware su cui il gioco deve girare da una parte un sistema action incredibilmente dinamico che ci fa venire voglia di provarlo con mano dall'altro però a livello estetico forse una coerenza molto meno stringente rispetto a quella dei capitoli precedenti e soprattutto dell'originale sì diciamo che nel all'epoca il primissimo baionetta ebbe il merito secondo me veramente unico di distinguersi con un taglio molto diverso da tutto il resto lo raccontavo anche stamattina teocrazia in diretta laddove c'era una grande seriosità una voglia di essere cool a tutti i costi di devil may cry di ninja gaiden la strega invece era miccante era sexy era sopra le righe ed era anche allegra per certi versi sia nei colori nei toni nella colonna sonora così acidamente jets pazza sculacciava i demoni c'erano degli elementi anche potentemente fetish e riusciva a distinguersi ad essere sempre molto oltre diciamo però secondo me con una coerenza dal punto di vista estetico e artistico riferimenti che andavano dallo stile liberty all'architettura di gaudì la revisione profondamente secondo me originale e accattivante dell'iconografia degli angeli sacri per la tradizione cristiana trasformati in qualcosa però di mostruoso perché in realtà lei era cattiva e gli emissari del paradiso i buoni e tutta questa cosa secondo me aveva davvero dato un tono e un'unicità al capitolo originale in grado di ripeto distinguere immediatamente al di là di quello che era il valore di gameplay stellare nel 2 secondo me già avevano un po alzato il volume delle cose creando un po di baccano anche a livello visivo mostri sempre più esasperati una corsa un otto volante in cui non c'erano mai pause che funzionava perché poi il gioco era assolutamente di grande valore ma pasticciava un po il tutto in questo terzo capitolo mi sembra che invece il pasticcio sia completo esatto c'è veramente di tutto grandi kaiju che compaiono e permettono di saltare da un'area all'altra nemici che sembrano robotici omuncoli transumanesimo si è veramente persa quella direzione molto molto coerente e focalizzata che secondo me aveva reso grande il primo baionetro a livello proprio secondo me visivo di tono personaggi abbiamo visto appunto viola il personaggio nuovo che sembra preso proprio paro paro da devil may cry da vergil con la spada un'inquadratura che potrebbe veramente essere vergil si si poteva un devil may cry con un vergil alternativo donna era cioè me lo potevano vendere tranquillamente così con questo appunto non si vuole in nessuna misura sminuire baionetta è un annuncio che secondo me resta clavoroso nel senso che è un gioco che si attendeva da tanto e che arriverà anche molto prima del previsto però 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 io voglio dire che il fatto che non sia diretto da camiglia si continua a pensare che esatto che si veda e vediamo sono molto più curioso per assurdo di giocarlo perché sono davvero fiducioso che platinum sappia anche un po riprendersi dopo degli scivoloni un po così a livello produttivo a livello di azienda ma che il focus principale quello vero quello che aveva quel sacro fuoco quell'anima che aveva reso così speciale baionetta un pochino per strada forse rischi di essersi perso vedremo però bella lì perché il fatto di poterci mettere le mani sopra e di avere un autunno di mazzate che parte il 20 di settembre con soulstice il gioco italiano di reply game studios continua il 28 ottobre con baionetta e poi arriva il 9 novembre con god of war ragnarok per me che sono un amante di action è proprio una grande notizia sì ma al di là dell'action possiamo anche focalizzarci proprio sulla line up di nintendo che per quest'anno è veramente eccezionale cioè in un'annata in cui sia sony che microsoft faticano a dare continuità cioè sony ha il suo god of war che sicuramente farà tanto rumore microsoft invece ha spostato in avanti sia starfield che redfall e quindi deve focalizzarsi su produzione ha aperto comunque anche l'anno con horizon e gran turismo assolutamente però la continuità c'è nessuno nessuno xenoblade splatoon pokemon veramente il 2022 di switch sembra eccezionale ultima nota prima di passare ad altro appunto il comparto tecnico è evidente che dal punto di vista delle texture della mole poligonale il gioco sia come piace dire a me un po' trattenuto scelta inevitabile se vuoi puntare sui 60 fps ci sono stati anche in passato altri action che invece hanno preso una strada differente cito proprio astral chain che è molto più sontuoso almeno a giudicare da questi trailer dal punto di vista della messa in scena proprio del innegabilmente più ricco e più piacevole da guardare però però va 30 fps e quindi insomma io apprezzo comunque la scelta dei 60 fps per baionetta non c'è scusa 60 fps sempre possiamo dire che però in generale è un po' un peccato vedere che comunque la strega non riesca magari a mettere in mostra tutto il suo fascino anche se i modelli poligonali sono molto molto fighi ci sta cioè purtroppo switch delle rinunce la coperta corta è particolarmente corta sulla console libri della grandenne perdona mi devo aggiungere anche un'altra cosa perché ha fatto un po' rumore anche questo annuncio ci sarà un filtro che permetterà di ridurre un po' le esplicite nudità di della protagonista è appunto un filtro un'opzione quindi non si tratta di una censura vera e propria come in tanti l'hanno additata ma di un'opzione che secondo me all'interno di quella che è l'azione di nintendo e la filosofia di nintendo si può capire e secondo me comunque non toglie niente al titolo perché si può anche scegliere di non giocarlo così com'è anche se un pochino ino ino secondo me di quella carica erotica di baionetta secondo me anche lì un po' è cambiato chissà chissà vedremo la seconda parte del nostro podcast la dedichiamo sempre a nintendo ma con un'altra notizia che non riguarda specificatamente il videogioco ma invece l'allargamento che pure nintendo sembra voler intraprendere per andare con le sue ip a colonizzare altri ambienti è una cosa di cui abbiamo in realtà parlato anche quando si è trattato di sony l'avvicinamento proprio evidente tra i colossi del mercato videoludico e il mondo del cinema della tv e in generale della produzione di contenuti video e c'è questa notizia appunto che riguarda la grandenne assolutamente a sorpresa perché non era stata mai preannunciata ovvero il fatto che l'azienda giapponese andrà ad acquisire il 100% delle quote di una società che si chiama dynamo pictures entro il 3 di ottobre è un'azienda che si occupa di appunto produzione di contenuti video computer grafica per film televisione pubblicità hanno lavorato con vari partner tra cui per esempio netflix per ghost in the shell ma in realtà avevano anche già lavorato con nintendo per la produzione delle cutscene di metroid a the ram e per quella serie di corti ispirati a pikmin che si erano visti su wii u e nintendo 3ds con miyamoto in particolare al centro della scena ebbene questa acquisizione andrà addirittura a creare un vero e proprio dipartimento di nintendo che si chiamerà nintendo pictures è una unità tutta nuova pensata per la produzione appunto di contenuti in computer grafica destinati verosimilmente sia ai videogiochi che soprattutto ha serie tv a corti a magari anche altri lungometraggi che danno là a qualche cosa di inedito per la grande n sappiamo che si stanno comunque un po modificando nel dna non sono più solo e soltanto produttori di giocattoli barra videogiochi ma hanno aperto per esempio una parte dedicata al mondo di super mario all'interno degli universa studios in giappone che arriverà anche in occidente sappiamo del film di super mario che quello è prodotto da nintendo studio esatto da non confondere esatto con nintendo pictures e però è evidente direi che appunto la casa di miyamoto si stia aprendo a qualche cosa di diverso seguendo un trend comune all'interesse dell'industria sì sì decisamente ci è arrivata anche nintendo e secondo me può fare molto molto bene perché le sue ip sono assolutamente dirompenti e poi ormai entrate nell'immaginario collettivo quindi era un passo che io ritengo necessario naturale anche naturale vediamo con quale convinzione con quale frequenza insomma arriveranno magari delle produzioni non direttamente videoludiche però io credo che possano far bene sai in tanti fra in chiusura avevano definito in passato nintendo la disney del videogioco e direi che il fatto di specializzarsi in parchi a tema e in produzione proprio video vada davvero in quella direzione lì esatto adesso devono solo ammodernarsi per l'online esatto manca solo quello e poi siamo al passo con i tempi lì sono la sip dei videogiochi grazie mille per averci seguiti anche in questo nuovo episodio di gong 10 minuti con round 2 anche oggi abbiamo sforato ma morigeratamente vi ricordiamo che se volete supportare il nostro progetto potete farlo attraverso regali di abbonamenti su twitch dove ci trovate live ogni mattina dalle 10 alle 12